E' notte, c'è luna piena. Bats è accasciato al suolo, ferito. Stringe al petto il fiore di Barbie, che lì accanto lo veglia commossa e preoccupata. E' notte, c'è luna piena. Però penso a come Gutz l'abbia ingannata, e a come la realtà a volte sia diversa da come ce l'immaginiamo. Ma i due sono spiati da Gutzman. Barbie se ne accorge, e si rama, guzzerrite malignamente. Si avvicina all'inerme Bats, e si appropria del fucile del fiore. Con fare minaccioso, si aggira per la scena. Finché lancia con sdegno il fiore, e si allontana con il fucile sotto braccio. Ancora scossa, Barbie si chiina dolcemente su Bats, e lo cura teneramente. Bats, apre gli occhi, a fatica si alza, e si rimette in piedi. Bats, apre gli occhi, a fatica si alza, e si rimette in piedi. Bats, apre gli occhi, a fatica si alza, e si rimette in piedi. Sono i gormiti e guzzmani, che schiamazzano rozzamente. Barbie, è oromai incurante di tutto ciò. Sorrida Bazzi e capisce di essersi innamorata.